L'autonomia ormai è un coral, nella pampa c'è il coral, arriva la mandria e poi si incanala tutta e da lì non torna più indietro. Ormai l'autonomia è incanalata, si decide che questo governo non la vuole fare, non la facciamo noi, la fa qualcun altro, però sarebbe grave questo perché ci siamo impegnati e dà ragione Matteo Salvini a porre la questione, a porla fortemente perché stiamo attendendo dal 22 ottobre 2017, perché a tutte le domande, a tutte le inquietudini, a tutti i dubbi abbiamo risposto, per cui è finito il tempo, c'era chi era Tortora che diceva Big Bang ha detto stop, Big Bang ha detto stop, è finito il tempo delle domande, adesso i 5 Stelle ci dicano se la provano e se non la vogliono approvare questa autonomia come l'abbiamo scritta noi, presentino ufficialmente al mondo intero la loro idea di autonomia in modo tale che i 2.328.000 Veneti e i Lombardi, tutti quelli che stanno chiedendo l'autonomia, sanno se quell'autonomia che propongono i 5 Stelle è compatibile con le aspettative che hanno i territori.